A te la scelta su chi sarai, a te la scelta su dove andrai, mi hai urlato con te. Abbiamo bisogno di giovani in cammino, soltanto il mondo può cambiare se i giovani sono in cammino. Un lavoro che ti faccia pensare, che ti faccia sentire, che ti faccia lavorare. I tre linguaggi, linguaggi della mente, linguaggi del cuore e linguaggio delle mani. Nella prima sezione, pensa, lo scambio di email tra una giovane e un sacerdote offre spunti per approfondire le tematiche centrali del discernimento vocazionale. Per ogni tematica emersa nello scambio di email, la seconda sezione, prega, propone testi biblici, preghiere di autori ed esercizi pratici per accompagnare la riflessione e la preghiera personale. In questa cultura liquida ci vuole concretezza e la concretezza è la vocazione vostra. Dopo aver pensato e pregato, è tempo di piccole e grandi scelte. La terza sezione, scegli, aiuta a dare forma a quanto è mezzo per rendere concreti i passi del discernimento. Sei molto più di questo, più di ogni giorno perso, in ogni tuo respiro c'è più dell'universo.